Nuova Passat Variant dal 12 al 17 settembre in tutti i concessionari Volkswagen Franco, oh Franco, fa caldo Oh Franco, fa caldo Ezio, oh Ezio, fa striscia La faccio, la faccio E con chi la fai striscia? Con un francuccio tuo Musaccio E dai, fammela fare pure a me che ti porto la malanzana Franco, fa caldo Ti porto il pomodoro di pieno Fa più caldo Ti porto il peperoncino Fa troppo caldo, Franco Mi, Ezio, ma sei incontentabile Franco, Franco, se ti dico che fa caldo, fa caldo Dal 26 settembre su Canale 5 torna a striscia la notizia La voce della divergenza, un programma di Antonio Ricci Sentito? Faccio striscia con te Dal 26 settembre striscia la notizia con Ezio Greggio e Franco Neri Forse R101 è nell'aria È la radio che ti emoziona con le canzoni che ami R101 Più l'ascolti, più la senti Mi, Ezio, ma sei incontentabile Il calcio Sky è sempre più grande la serie A, tutta la UEFA Champions League e i mondiali FIFA 2006 più C1 più parcheggio più parcheggio meno stress meno stress più sorrisi più sorrisi più amore più amore più C1 Nuova Citroën C1 l'unica con la casco di serie e con l'operazione G-Tem C1, C2, C3 le paghi da gennaio 2006 viene a trovarci sabato 17 domenica 18 Sono la nuova Tecna 90 di Rex Electrolux una lavastoviglie più grande per i piatti più grandi e per aiutare la nostra ragazza alla pari ne parlo Ciao, seleziona il programma Ciao seleziona il programma Rex Electrolux fatti per essere il numero uno 30% degli adulti in Italia soffre di denti sensibili un cibo caldo o freddo provoca una fitta dolorosa e fastidiosa in bocca il mio consiglio è il dentista e Sensodine usare Sensodine è un buon modo per affrontare il problema e per prevenirlo infatti è il dentifricio più raccomandato dai dentisti italiani attenzione parte l'operazione 5555 fino al 30 settembre Lancia Y è tua con 5 anni di garanzia 5 anni di furto e incendio 5 anni di polizza casco e 5 anni di finanziamento tutto a tasso zero Lancia Y auto ufficiale del movimento WOW Indimenticabile primo amore Fiat 500 Story Collection tutti mitici modelli in originali ambientazioni prima uscita Fiat 500 Abarth a Monza solo 5,95 euro Nuova Honda FRW Diesel ICTDI da 1 a 6 in libertà motore dell'anno nella sua categoria scoprila nelle concessionarie Honda Radio R101 più l'ascolti più la senti io l'ho vista lontano da qui giù al lago alle 8 scomparsa nella nebbia Nuova Seat Leon lascia il segno scoprila sabato 17 e domenica 18 auto emozione Raul è questo Orgelic ma stami su per favore questa è casa mia vuoi che non lo so no veramente c'ero già l'anno scorso io ho detto sei tu che sei nuovo eh perché qui lavorano ormai cani e porci mi aspettano vabbè t'aspettano c'è qualcuno aspetta no eh aspetta che faccio una telefonata tu non ci dofoni tu telefoni c'hai il telefono pure perfetto vieni cosa? poi ti spiego vai in là cammina vai tranquilla ma dove andiamo? 7 di settembre vai andiamo in mezzo al traffico camminando ma che scusa? non è da qua eh meno male che siete arrivati sono due ore che ero chiuso qui dentro me era vestito di azteca